È una risorsa importante per il Pescara, Davide Vittorini, come stai Davide? Tutto bene, tutto bene, grazie. In perfetta forma, in grandi condizioni per tornare a giocare. Esatto, esatto, sicuramente. Questa è stata una lunga estate per me perché dopo il campionato ho iniziato subito ad allenarmi per le Universiadi. Tra l'altro protagonista alle Universiadi, peccato per quel rigore. Esatto, è stato un peccato perché si era creato veramente un bel gruppo e c'erano tutti i presupposti per poter far bene, visto che la squadra era composta da buoni elementi e quindi potevamo anche vincerle. Poi purtroppo ai rigori si sa, è sempre una lotteria e quindi siamo stati un po' sfortunati. Io in particolare con quel palo che l'ho sognato un po' di sere, ma è andata bene, è stata una bellissima esperienza. Hai fatto pochissimi giorni di vacanza? Esatto, sì, sì, sì. Quanti? Una settimana massimo. Anche se è finito il campionato scorso con il Fano, poi ci sono stati dei giorni in cui ho staccato un po', per iniziare subito ad allenarmi e prepararmi per l'università con i vari raduni e le varie preparazioni personali. Che tipo di giocatore ritrova Pescara? Quello che ha conosciuto nell'anno della Serie A, del campionato vinto in Serie B con Oddo sicuramente, ma sicuramente con più consapevolezza dei propri mezzi. Sicuramente il campionato, anche se non è stato molto positivo l'anno scorso, mi ha aiutato molto a crescere personalmente, nella gestione di situazioni in campo e quindi mi è stato molto utile. C'è la trasferta di Cosenza, i calabresi non hanno ancora vinto in campionato, voi venite da una bella vittoria con il Pordenone, soprattutto la reazione è piaciuta nel secondo tempo. Sì, sì, è stata una bella vittoria perché il Pordenone ha dimostrato di essere un'ottima squadra e domani sarà una partita ancora più difficile perché andremo a giocare contro una squadra che ha un solo punto e che vorrà vincere, quindi ci aspetterà e cercherà di ripartire. Noi dovremmo stare attenti a questo e a fare una prova solida e cattiva. Sappiamo che ti vede benissimo Zauri perché nell'unica partita titolare in Coppa Italia ad Empoli ti sei comportato non bene di più. Sì, sì, io cerco di stare bene e di impegnarmi al massimo quando il mister vuole che scenda in campo. Il mister ovviamente, come dicevo prima, mi conosce quindi sa quello che posso dare. sono arrivato che ero in un buon momento in ritiro, quindi io ce la metto sempre tutta e cerco di dare sempre il massimo.